dove eravamo rimasti ultima volta benvenuti in questo nuovo video benvenuti in questo post partita di juventus indri coppa italia benvenuti a parte che un la roman centranette quindi ciao ci avrei la sciarpa del nera azzurri qua nera azzurro però io non sono nera azzurro quindi chi se ne frega oggi siamo così e basta benvenuti in questo nuovo video benvenuti prima di tutto tu lascia un like lascia un commento lascia anche il prossimo motivo principale che devi fare adesso una cosa che non ci vale è iscritto a questo canale punto basta ciao e ora cominciamo col video fra 3 2 1 bella tutti benvenuti allora oggi prima di tutto c'è da dirvi due cose importanti due cose importanti guardando questo video qua mi è venuto in mente che probabilmente ci sono riferimenti a due video molto recenti che ho fatto settimana scorsa se non sbaglio aspettate che però giro così forse è più stabile e mi sembra giusto ricordarvelo che vi lascio in descrizione due link di due video che ho registrato molto recentemente uno esattamente settimana fa nel quale parlavo del fatto che lo sport è sempre importante ma rispetto alla base di tutto e nel quale dicevo che il calcio non è lo sport appunto nei quali tutti dovremmo essere al centro e non dovrebbe essere città calcio centrica invece lo è e dopo alcuni scadimenti ieri ancora una volta devo ancora capire perché lo è e due riguardo all'inter fece un discorso riguardante il milan molto simile in quanto a moduli e fiducia nell'allenatore ma 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 vi da anche un altro spoiler presto uscirà un video dedicato all'inter e uno alla juve con calma non ho fretta io voi nemmeno quindi seguite i prossimi aggiornamenti ok allora ora fra 3 2 1 direi che è ripartire col video bentornati allora raga facciamo subito premessa raga ho perso i primi 20 minuti della partita però quest'anno è assurdo dirsi ma io non ho sky e non ho nemmeno da zone mi seguo a parte che ci sono in televisione e quest'anno su tre partite in cui c'erano inter e juve non mi sono perso neanche un inter e juve assurdo dirsi e questo inter e juve ho perso i primi 20 minuti perché ero un po' impegnato un'altra cosa che so è che io ho seguito i primi 20 minuti e guardo le statistiche e non c'è niente di eclatante a parte il fatto che di maria ha provato un tiro e andanovic ripetiamo assieme andanovic ha parato un bel tiro deviandolo in angolo quello lì basta c'è solo quello lì poi dal venticinquesimo in poi ho guardato la partita e sembrata la solita partita in cui c'era un inter in cui attaccava e una juventus in cui si difendeva e attenzione la juventus è tornata a quella di prima quella della difesa sempre inossidabile non c'è altro da dire raga cioè è assurdo dirsi ma io non mi sarei stupito se oggi la partita fosse finita 1-0 per la juve e a ritorno fosse finita ancora 1-0 per la juve sempre o 0-0 perché la difesa della juve è invalicabile quindi quel rigore alla fine lì per l'inter ci stava 1 e 2 e non male che c'è stato almeno a ritorno partiremo come se fosse uno 0-0 e come se la partita da juventus non ci sia mai stata anche se le polemiche sono fioccate i casino sono fioccati li risse pure e i gialli e i rossi pure allora c'è da dire una cosa quel che dissi riguardo al Milan poco tempo fa vi lascio il link qua sotto il video dissi Pioli aveva fatto bene a cambiare modulo adesso io mi dico secondo me Inzaghi che perde 10 partite in campionato e che è un calneatore alla purtroppo Conte purtroppo alla Mourinho purtroppo stupiso gli converrebbe cambiare modulo in Italia perché stranamente domenica scorsa Mourinho ha cambiato modulo e abbiamo vinto 3-0 non vorrei dire 3-0 ora che tu caro Inzaghi non hai giocatori sufficienti per difesa 3 perché a parte Bastoni e Acerbi non hai altri difensori perché l'Inter si è basata su 4 difensori che sono titolari e 1 panchinaro e 2 tizie che oltre a saltare in difesa che sono Darmian e D'Ambrosio non hai difensori centrali, chiaro il concetto? allora io se guardo le statistiche e anzi guardo la formazione della partita lui ha usato ancora una volta la difesa a 3 con D'Ambrosio, Acerbi e Bastoni questo ha fatto lui e alla fine il gol tu Inzaghi hai preso il gol da quadrado perché? perché non c'era nessuno a coprire il quadrado prendetevi conto lì il difesa un bellissimo pallonetto per i costi non mi ricordo di chi? lì da solo c'era quadrado e va bene che Bastoni ha provato ad inviarlo ma l'avete lasciato da solo quadrado quadrado tanto per dire un nome comunque ragazzi ma usare un 4-4-2 un 4-3-1-2 per l'Inter è così complicato? perché io se leggo i nomi qua a parte che c'erano De Vrij, c'era Gose, c'era Bellanova c'era anche... basta i difensori c'erano solo De Vrij e questi qua a quanto pare De Vrij non era in forma perché Sclinia nemmeno c'è qua ma io mi chiedo ma tu che hai con questi difensori qua ma mettere magari in questa formazione una difesa con un D'Ambrosio a sinistra o a destra, con più felicità magari un Di Marco a destra oppure un D'Ambrosio a destra un Dumfries perché c'è anche Dumfries lì c'è anche Dumfries lì metterlo lì e i due difensori centrali ci stavano Bastoni e Acervi perché sono due signori difensori centrali mi dico io ma tu non ci hai pensato a cambiare modo ogni tanto perché va bene il centrocampo ci sta perché il centrocampo è sempre lo stesso da 50 anni Barella, Brozzo, Michitain lascialo 4-3-3 4-4-2 se proprio vuoi 4-4-2 metti che ne so Barella, Brozzo e mezzo a destra metti Michitain a sinistra metti Di Marco fai così magari cosa metti cosa sinistra in difesa fai così magari al meglio usi questi giocatori oppure se proprio vuoi metti un trequartista solo che io metterei Brozovic e basta e attaccare se proprio vuoi mettere Dzeko e Lautaro Dzeko e Lautaro ammetti punto a parte che oggi Lautaro era spaesato sembrava come se tipo avete presente Aldi quando pascola in mezzo ai campi ai monti senza sapere dove andare senza sapere dove corre senza sapere cosa ma corri vai a prendere quel pallone lì va bene che tu vuoi sempre il lavoro facile Lautaro però intanto anche andarti a recuperare il pallone cos'è non hai fiato hai 26 anni hai una figlia hai un figlio hai una moglie non hai fiato per correre per quel pallone lì vabbè che io sono nel tuo lavoro però dico io non puoi stare lì con me alle Icardi stai lì fermo aspettare che un pallone ti arrivi non arriva mai perché l'Inter è brava a giocare posso parlare l'ha fatto ma la Juve non è che sia una squadretta così tanto per ho visto nel primo tempo due aceri in particolare quella di cui vi ho parlato prima di di Maria che poi si è sostituito e si è arrabbiato un botto non si è capito ma anche il perché perché lui è un giocatore fondamentale non voglio mai si è sostituito ma si stava sempre rotto cioè vi spieghi di Maria adesso improvvisamente si è attaccato alla maia da Juventus quando poco tempo fa non vedevi loro farti questo anno sabbatico e tornatene in Argentina in coerenza style vabbè comunque io vi dico ma a parte che il tiro di Brozo mi è piaciuto posso dire che è stato una bella rasoiata un bel tiro e anche il fatto che hanno recuperato un pallone in area di rigore avversaria e Geko giustamente l'ha adatta Brozo è stato un bellissimo attacco bellissima cosa ci sta come ci stanno anche la serpentina di Michi Tan andata fuori di lato di poco come ci sta il colpo di testa di D'Ambrosio nel secondo tempo nel primo tempo secondo te non mi ricordo Michi Tan comunque si arriva un po' di mira in più ma non c'è stata e purtroppo quel momento lì cioè questa partita avrebbe potuta finire 2-2 o 1-1 dipende dai casi perché addirittura avrebbero potuto far gol sia a gol mili che su assist di costi quella lì è andata fuori di lato assurda nessuno si aspettava sia il gol di Michi Tan che si è smangiato a porta vuota quasi perché ragazzi Michi Tan lì è stato il solito mago che dal cinti tira fuori l'assist o il giocatore del campione sa per tirata per tirata in porta purtroppo l'ha tirata fuori di poco e devo ammettere che quando è entrato Lukaku attorno al 75 se non sbaglio servisse più l'esperienza di Lukaku nel cercare il pallone che quella di Gekko e di Lautaro che con i monti gli sembravano un po' persi questo mi è sembrato Lukaku ha più voglia di andare a prendersi il pallone cercarlo e quando ha fatto il fallo su se non sbaglio Kosti se non sbaglio non ha fatto volutamente era soltanto invigorito perché in area non era potuto andare a prendere quel pallone lì e dopodiché ha avuto per il pallone di Foga e ha fatto il giallo ha preso il giallo è stata una partita abbastanza tesa con tanti gialli il fatto che ragazzi io vorrei lasciarvi il link e ve lo lascerò qua sotto di un video in cui ci sono praticamente dei tifosi della Juve che insultano pesantemente con insulti razzisti Lukaku ma proprio l'ha detto parole io questi qui darei il daspo a vita è per quello che parlavo di rispetto del video di una settimana fa esatta perché attenzione qua parliamo di calcio ma parliamo comunque di rispetto perché il calcio prima di tutto è uno sport e lo sport dovrebbe insegnare sia il rispetto reciproco per ogni etnia per ogni razza e per ogni persona qualsiasi persona sia e vedere due persone a fine partita che vanno a parlarsi ci sta come Quadrado e Andanovic e Andanovic non ce l'ho mai visto prendere a pugni qualcuno o arrabbiarci così tanto ma vederlo poi andarsi a amenarsi non mi è piaciuta per nulla quella scena soprattutto queste risse qua non fanno di un bello spettacolo per il calcio ma purtroppo i più grandi dovrebbero far mostrare il rispetto reciproco te per essere presi da esempio ma quando c'è un giocatore come Barella quando c'è un giocatore come Quadrado non puoi far perdere questo rispetto purtroppo e purtroppo non accade in serie maggiore soltanto ma anche in quelle minore ma dicono e vabbè non c'è nessuno qui per indigenza minimizzava il fatto che questi qui si fossero presi a botte eh ma era sentita la partita non è la lucificazione era sentita la partita e non è la lucificazione nemmeno il fatto che Inzaghi è allegro è successo così ragazzi va bene l'odio sportivo ma non deve mai sfociare nell'odio sportivo e fisico va bene lo sfottò fino a un certo punto ma non deve mai sfociare in nessun atto di tipo intimidatorio o violento penso ad ogni modo la partita a me sembrava abbastanza equilibrata io l'avevo inquadrata e la vedo ancora adesso con poca occasione da gol in realtà ce ne sono state quattro da una parte e tre o quattro dall'altra perché il Lukaku che è stato bloccato in area di rigore alla fine del primo secondo tempo il D'Ambrosio che purtroppo non spizza la palla bene e non la porta in porta il tiro di Brozo anzi Brozovic ha tirato due volte una volta ha tirato bene il centrale purtroppo appena apparato bene per il grande portiere oggi e l'altra purtroppo l'ha tirata in curva e non si è capito il perché quando poteva semplicemente passarla ma poi ci sono alcuni giocatori che si sardiscono e vanno lei proprio vicino all'area di rigore avversaria invece di passare il pallone io non capisco cosa vogliate tentare a fare se non sapete dove tira quel pallone mai detto e poi ultimo è stato appunto Mkhitaryan quindi da una parte ci stanno 5 occasioni due di Brozo una di Lukaku una di Mkhitaryan quella di D'Ambrosio 5 e dall'altra ci stanno le occasioni di Maria di Milik e anche era un Danilo o era sempre il quadrado perché gli sembrava avessero spizzato anche loro il pallone ah forse era Rabioti che aveva provato il tiro se non sbaglio ma era stato comunque bloccato io mi chiedo ma mette difesa a 4 nel caso dell'Indef sarebbe stato così pericoloso perché secondo me avrebbe coperto di più lo spazio del centrocampo barra difesa loro sarebbe stato anche meglio come ha fatto diciamo la Juventus perché la Juventus ragazzi fa della difesa il suo punto di forza ma non da adesso l'ha sempre fatto il punto è che la Juventus si vede che sa facendo tutto non per il possesso palla per fare dei tiri sì ma perché vuole semplicemente portarsi la partita a casa con il contropiede come hanno fatto in qualche occasione per fortuna è stato bloccato da mi sembra D'Ambrosio che D'Ambrosio oggi era un fire oggi mi è piaciuto più D'Ambrosio che D'Armian stranamente forse perché i ruoli erano totalmente diversi e soprattutto perché secondo me D'Ambrosio si è spinto oltre la riflessione centrale Barella ha amministrato dei palloni oggi in area di rigore avversario soprattutto mi è piaciuto se sentite abbastanza l'assenza di Ciano però dovrò riprendere sicuramente Brozovic non è più il suo Brozovic perché mi è sembrato abbastanza perso Mkhitaryan oggi era il direttore dell'orchestra che ogni tanto spizzava qualche pallone anche se ragazzi io penso che sia un consiglio a parte mia sia per la Juventus che per l'Inter dovete essere più veloci nell'azione perché vedevo a un certo punto nell'azione tutto abbastanza lento e ripensavo al fatto che dicevano che appunto in Italia non è a pari di altri campionati perché appunto il gioco abbastanza l'avevi fatto e ripensavo anche al fast di un tempo dove appunto qualche anno fa nelle sei finali di Coppa Italia finivano 2 a 2 all'andata 3 a 2 al ritorno qui invece io capisco benissimo che appunto la difesa si tentata il punto di forza maggiore di tutte le squadre perfetto ci sta eh però sembra quasi che appunto come dicevano anche i telecronisti si sia paura di esporsi troppo per subire l'avversario alla fine è finita 1 a 1 e nessuno ha rubato niente perché Quadrato ha fatto un bel gol dispizzata bella anche perché l'Inter ha demeritato e l'Inter poi ha fatto il gol perché ha meritato e come ha detto anche Allegri il pari è il giusto risultato l'Inter non sa più segnare contro la Juventus verissimo verissimo perché la Juventus ha quella difesa abbastanza solida c'è da ammettere una cosa a parte il fatto che dovrebbero imparare e riguardarsi come hanno vinto l'anno scorso la Coppa Italia gli amici dell'Inter per vedere come fare contro questa Juventus perché gli elementi più o meno sono gli stessi adesso sono un Bremer un Danilo e un Gatti che comunque Gatti è cresciuto molto e anche Bremer ha fatto buone cose nonostante il fallo di mano che vabbè adesso lo ammazzeranno tutti i calciatori della Juve e i tifosi della Juve lo ammazzeranno di insulti però ci sta perché sta ancora imparando il suo ruolo non dovrei mai esserci fallo di mano però vabbè il paio il centrocampo della Juve è stato buono secondo me ha giocato Locatelli mi sta piacendo ed è cresciuto un botto cioè all'inizio anno mi aspettavo mai che questa crescita di Locatelli invece sta diventando molto importante per la Juve e rabbio anche che ogni tanto fa anche il leader e va appunto a prendersi il pallone e a scaricarlo perché deve dovere mi è piaciuto il fatto che sia entrato Chiesa anche se abbastanza sembrava acciaccato non lo so ogni tanto non è al cento per cento a quanto pare però dopo tanto tempo Vlaovic oggi è abbastanza desaparecido perché ci ha provato però Milic è stato più decisivo secondo me non secondo me lo dicono i numeri esatto anche se ci ha provato anche lui con qualche tiri solo che sono stati tutti questi tiri bloccati da difesa dell'Inter come alcuni sono stati bloccati proprio da difesa della Juve ma poi mi chiedo ma in area di rigore avversario gli interisti come fate sbagliare quei tiri lì quei tic 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 ma passate una palla e tirala Lukaku o da fuori area se c'è un minimo spazio tira una botta lo dico anche in altri eventi quando avete un minimo spazio anche si approfittano e tirano una bomba non l'hanno mai fatto io non so il perché non lo facciano però hanno paura rispetto a qualche anno fa la mentalità in questa Coppa Italia è diversa per questa Coppa Italia si tende più non allo spettacolo ma al suo poriferi per cercare di annientare l'avversario e cercare di appunto contrattaccare mentre un tempo si tendeva a fare lo spettacolo punto e basta questo negli ultimi anni è notato e c'è da dire che appunto se vedete tutti i quarti di finale anche le semifinali degli anni scorsi gli ultimi due o tre anni intendo sono sempre stati con pochi gol invece un tempo c'erano i tre a due all'andata e i due a due al ritorno in quale finivano in race e cose del genere se ne ricordate anche voi e mi dispiace perché appunto questa mentalità non mi piace mi piace più quando non si va oltre al rischio ma si va anche proprio on fire anche se capisco perché come dicono tanti youtuber della Juve e dell'Inter che giocare ogni tre giorni in questo mese di aprile è molto complicato e quindi c'è da dosare le forze vero soprattutto perché appunto in questi mesi purtroppo c'è da dire che i calendari sono abbastanza densi soprattutto dopo la pausa mondiale che quest'anno ha raffinato un po' di piani e vabbè questa è un'altra storia comunque boh io ho dati i miei consigli sia a uno che all'altro e l'unica cosa che posso dire è che il pareggio è giustissimo e i tiri adesso lo vado a guardare ma non l'ho guardato ancora eh aspetta statistiche vedete dieci tiri tre in porta per la Juve 12 tiri quattro in porta per l'Inter quindi 33% contro 30% di precisione quindi diciamo che siamo lì si diciamo che diciamo che però il possesso palla è stato diverso perché l'Inter cercava il possesso palla ma non riusciva mai a portare a te un'azione perché la Juve era molto chiusa in se stessa giustamente perché quello è il gioco di Allegri comunque c'è solo quello che volevano cioè chi si gioca sotto al ritorno perché all'andata appunto finisce in un pareggio o un 1-0 perché comunque tutti dai diciamo la verità ci aspettavamo che questa partita siano finita con un gol di scarto ad uno se stavamo che 4-0 o 5-0 magari del Milan contro il Napoli o sbaglio ecco basta non c'è altro da aggiungere io direi che ci sta come partita e beh nel senso Andanovic additura scusate dimentico sempre questa cosa le difese sono state buone ma io vorrei parlare dei portieri perché comunque i portieri sia di una squadra che dell'altra sono stati fondamentali Andanovic ha spizzato quella palla fuori area di Maria è sempre stato attento anche sui contropiedi e quando la paglia arrivava in mano proprio centrale di chi era quel tiro centrale che appunto è arrivato in mano adesso non lo so cercherò aspetta cercherò in questo momento perché io ricordo che c'era un tiro centralissimo che gli è arrivato in mano proprio da Andanovic e lui l'ha preso in mano e ha detto oh finalmente e chi era aspetta no non è questo no non è questo no ah è forse è questo no no non l'hanno detto comunque c'era un tiro improvvisamente di Andanovic che però gli appalla gli è arrivato in mano e per il comunque anche di gambe e oltre che di braccia ha apparato molto bene era sempre reattivo entrambi i portieri ah ecco l'altra cosa ecco l'altra cosa Andanovic è vero ha fatto un errore nella quale ha quasi rischiato di fare un secondo favore per la Juventus nella quale appunto si è perso il pallone ha fatto una girata prima di passarlo là però dovete sapere che appunto i giocatori da Juventus spessavano molto parecchio quindi purtroppo è successo quel che è successo per fortuna alla fine è un'entrata in porta però dovete stare attenti tanto Andanovic non ci sarà a ritorno perché si è fatto buttare fuori e Andanovic sarà forse più sicuro per voi voi ormai Andanovic lo vedete come uno scarto umano quando la riconoscenza in Italia non esiste più comunque Quadrado vabbè sempre un buon giocatore un bravo giocatore però sceneggiate anche a me frate e basta altro da aggiungere non ne ho Lukaku siccome non va andrà spulso perché comunque ha fatto stargiti quei tardati là che l'hanno praticamente insultato sul personale basta nient'altro da aggiungere niente questo è il mio parere personale e come ho detto presto arriveranno nuovi contenuti riguardanti sia la Juve che l'Inter quindi stay tuned a presto e niente mamma mia al ritorno ci aspetta una bella partita però anche lì secondo me potrei finire o in 2 a 1 o in 2 a 0 per una delle due squadre e purtroppo non purtroppo per fortuna per me potrebbe essere l'Inter quella a passare perché forse è una motivazione maggiore rispetto alla Juventus per il personale poi vedremo perché secondo me questa Inter rispetto al campionato è tutta altra roba perché la sente diversamente la sfida quando vedi che l'altra squadra c'è più 20 punti hai il monatto e la presa in questo caso sai che due partite dalla finale della vittoria ci metti più grinta sembra e comunque i ricambi l'Inter in casa ce li ha solo che dovresti usare tipo un Bellanova o tipo anche un Carboni o tipo anche come si chiama Aslani più spesso parlo eh o un Celanoco quando tornerà o un Cascari se torneranno io comunque proporrei di provare anche la difesa a 4 l'ha provata più la difesa a 3 perché lui giocava a 4 ha provato Murino a difesa a 4 giocava sempre a 3 potete provare anche voi a giocare a 4 invece a 3 e invece Allegri mi piace perché è più duttile e prova sia la 3 che la 4 difesa 2 è l'unico intelligente punto ragazzi chiudo qua il video comunque ricordate sempre che la mente deve essere fluida flessibile e non fermatevi a un solo modulo ma neanche a una sola idea e soprattutto guardate quei due video che vi lascio nel link perché sarà importante guardarsi ciao ragazzi se avete detto tutto che c'era a dire e a presto con un nuovo video già da domani e vi lascio nella parte finale del video al prossimo video che sapete già qual dai lo sapete tutti ciao raga ci vediamo presto anzi prendiamo come solito il cellulare in mano e facciamo il 3 2 1 da così oppa 2 pon turno 2 di 2 3 2 3 4 9 är 4 0